Guasto nella rete di distribuzione che serve agli abitati di Briga Superiore e Briga San Paolo. Da sabato pomeriggio, nella zona sud della città, i tecnici AMAM sono al lavoro per individuare il guasto. Da ieri inoltre, fino a completo ripristino della funzionalità, un autobot dell'AMAM presidia la zona per garantire l'approvvigionamento per gli abitanti delle zone disagiate. E sempre riguarda la gestione acque, l'assessore De Cola risponde alle accuse di Cateno De Luca in merito alla sanzione combinata all'AMAM per la mancata richiesta di concessione d'uso dell'acqua di fiume freddo Relativamente alle interpretazioni fatte sullo statuto di AMAM, scrive De Cola, sfugge probabilmente all'onorevole De Luca il complessivo quadro normativo di riferimento che indica chiaramente come le azioni poste in essere dall'amministrazione siano corrette e spiega che sulla scorta dei pareri legali si è in procinto di impugnare in sede giudiziaria la sanzione di 30.000 euro per presunto esercizio abusivo dell'attività di derivazione delle acque in quanto, in contrasto con la norma e con il disciplinare che accompagna la concessione la sanzione sarebbe, secondo De Cola, priva di fondamento giuridico in quanto né prima né dopo la presentazione dell'istanza di rinnovo il comune è stato diffidato a sospendere la derivazione stupisce, conclude l'assessore, che documenti interni siano diventati pubblici senza che ci sia stata una regolare richiesta di accesso agli atti ma a due mesi alle elezioni molte cose possono comprendersi ma certamente non giustificarsi di eliminare l'alfabeto